Amici di Univet eccoci qua, commentiamo la gara Italia-Germania, campionato europeo Under 21, dove l'Italia veramente rischia l'eliminazione e sarebbe un grande peccato perché se non basta saper battere la Germania con un minimo due gol per poter avere ancora qualche speranza. È un campionato europeo strano perché potenzialmente secondo me l'Italia è composta da ottimi giocatori, la sconfitta con la Repubblica Ceca è stata pesante, dove la squadra non si è espressa secondo me nelle possibilità che ha di poter raggiungere il risultato. Anche Di Biagio ha fatto un po' di turnover che probabilmente tornando indietro non rifarebbe la stessa formazione, ha preso un po' dei gol da fuori area, cosa che come caratteristica l'Italia non aveva mai subito. Con la Germania servirà sicuramente più cattiveria e l'orgoglio italiano per poter battere la Germania e pensare ancora di poter superare il turno. Sono sempre Evaristo, scusate se insisto. Pronostico? Io dico che l'Italia batterà la Germania e speriamo che basti per poter passare il turno. Grazie a tutti!